Continua a tenere banco, anche a livello nazionale, la vicenda giudiziaria relativa al tentato rapimento dello scorso 16 agosto a Scoglitti. Protagonista un indiano di 43 anni, Ram Lubai, e una bambina di 5 anni. Come è noto ormai, l'uomo era stato arrestato dai carabinieri per aver tentato di rapire la bambina praticamente sotto gli occhi dei genitori. In seguito dal padre, l'avrebbe lasciata per poi proseguire la sua fuga. Grazie alla testimonianza dei genitori e di quanti hanno assistito alla scena, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo dopo qualche ora. Condotto in carcere, la mattina dopo è stato rimesso in libertà. La vicenda ha destato l'indignazione in tutto il paese ed è stato da più parti chiesto l'intervento del ministro della giustizia. Lo stesso ha disposto un'espezione alla procura di Ragusa per capire se, come sembra, sia stata solo applicata la legge. Si sostiene infatti che trattandosi di tentativo di rapimento, l'uomo non poteva essere arrestato. Di contro però c'è chi sottolinea che si tratta di un clandestino senza fissa dimora, gravato da un decreto di espulsione risalente allo scorso anno. Tutti aspetti che, secondo molti, potevano bastare a trattenere l'uomo in carcere. Rintracciato nuovamente sabato, è stato interrogato dal pubblico ministero Giulia Bisello alla presenza del suo difensore d'ufficio, Biagio Giudice. Dopo circa sette ore è stato rimesso in libertà. L'indagato ha negato tutto, dichiarandosi estraneo ai fatti e proclamandosi innocente. Una volta terminato l'interrogatorio, il PM è rimesso nuovamente in libertà l'indiano, in attesa della convalida del fermo che deve essere decisa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa. Questa legge mi fa vomitare, ha commentato la madre della piccola ai microfoni di Enrico Fedocci di News Mediaset. C'è stato detto, ha spiegato, che non è concluso il reato, ma si è fermato solo perché noi lo abbiamo fermato. C'è stato detto che lo dovevamo perdere di vista per poter dire che si stava portando via la nostra bambina. Sull'accaduto, l'Associazione Ragusa in Movimento esprime sconcerta incredulità, mettendo in rilievo che il reato di sequestro di persone in danno di minore di 14 anni, secondo il codice penale, è punito con la reclusione da 3 a 15 anni. Quindi, a loro dire, anche in caso di delitto tentato, poteva essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Questo caso, dichiara Mario Chiavola, merita di essere analizzato con la dovuta attenzione, perché non è possibile che la gente della nostra provincia si confronti con una simile psicosi. Grazie a tutti.